Siamo al prossimo incontro, questo incontro sarà focalizzato su una disciplina scientifica che negli ultimi anni ci sta permettendo di vedere il nostro DNA, il funzionamento dei geni, non solo nostro ma di tutti gli organismi viventi, in modo un po' diverso, un po' più complesso, cioè parleremo di epigenetica e lo faremo con il nostro ospite che è il professore Michele Morgante, docente di genetica dell'Università di Udine, nonché direttore scientifico dell'Istituto di Genomica Applicata, sempre di Udine. Vi lascio la parola, grazie per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui. La nostra sarà una sorta di carellata con dei contenuti abbastanza scientifici che però cercherò di rendere quanto più semplici possibili per capire cos'è l'epigenetica e come l'ambiente può riuscire a influenzare il nostro assetto genetico in maniera trasmissibile e come poi tutto questo può essere utilizzato per riuscire ad avere delle piante che siano in grado di meglio affrontare le sfide ambientali che si trovano a dover affrontare oggi e si troveranno a dover affrontare in futuro. Quello che vi racconterò e anche tutto il materiale che vedrete è il risultato di un grosso progetto nazionale che è stato finanziato dal Ministero Università e Ricerca che si chiama Epigen, nell'ambito del quale una settantina di gruppi di ricerca italiani hanno potuto dedicarsi per sei anni, finirà alla fine del 2018, a sviscerare tutta una serie di aspetti riguardanti l'epigenetica sia dell'uomo che di animali sperimentali che delle piante. Il termine epigenetica, come dice la sua etimologia, vuol dire al di sopra della genetica. L'epigenetica studia quei fenomeni che vengono sovrascritti sull'informazione genetica che è contenuta nelle nostre cellule e che riescono a modificare il funzionamento del nostro DNA senza che questo comporti una modificazione della sequenza del DNA. Noi ormai certi concetti li abbiamo direi abbastanza chiari, è il linguaggio di tutti i giorni dire è nel nostro DNA, giusto? E quando diciamo nel nostro DNA intendiamo dire che è qualcosa di iscritto in maniera stabile nella sequenza di basi che compongono il DNA. Il DNA è un acido nucleico che sta nel nucleo, il nucleo sta dentro la cellula e la somma di tutto il DNA che è presente in ogni cellula è chiamato genoma, che contiene tutte le informazioni che servono per produrre un organismo vivente. è un materiale, il DNA è molto semplice nella sua costituzione, è formato da quattro mattoncini di base che sono le quattro basi azotate che vengono abbreviate con quattro lettere, ACGT, quindi è anche facile da raccontare. Il DNA presente nel nostro genoma, il genoma umano, è lungo 3,2 miliardi di basi. Il DNA lo possiamo misurare con tante unità di misura, possiamo contare quante basi ci sono, possiamo misurarle in peso, 3,2 miliardi di basi pesano circa 3,2 picogrammi, possiamo anche contarle in lunghezza. Se prendiamo un DNA lungo 3,2 miliardi di basi, questo è lungo circa due metri, se noi lo stendiamo in tutta la sua lunghezza. È lungo due metri, ma ovviamente uno direbbe come fanno a starci due metri dentro ognuna delle mie cellule, che sono molto più piccole. È lungo due metri, ma è sottilissima. E quindi la chiave perché il DNA possa essere impacchettato dentro il nucleo di una cellula che è lungo pochi micron è che questa molecola che se viene stesa è lunghissima deve essere ovviamente in maniera appropriata raggomitolata fino a compattarsi per poter stare nel nucleo. Il DNA viene compattato attraverso l'interazione con delle proteine. Sapete cosa sono le proteine? Immagino di sì. Si parlava prima di carne, la carne è fatta soprattutto di proteine, ma quelle sono proteine strutturali. Le proteine più comuni delle cellule in realtà sono proteine che non hanno una funzione strutturale, ma hanno una funzione enzimatica. Sono quelle proteine che devono trasformare un metabolite in un altro e alla fine riuscire ad ottenere quello che ci serve come metabolismo. L'interazione fra il DNA e le proteine impacchetta il DNA in una struttura che si chiama cromatina e questo modello di impacchettamento è un modello gerarchico, cioè un primo impacchettamento che è quello che vedete raffigurato lì, che è chiamato anche quello della collana di perle. Ci sono otto proteine di quattro tipi diversi che formano quella pallina che vedete in verde attorno al quale il DNA fa due giri. Questa cosa verde si chiama nucleosoma, le proteine che lo compongono si chiamano istoni, ma questo non ha tutta questa importanza. Poi questo primo livello di impacchettamento subisce tutta una serie di altri livelli di impacchettamento. Il livello di impacchettamento massimo, scusate, che è quello probabilmente a cui voi siete abituati, che è quello che vedete raffigurato lì a destra, i cromosomi di cui si parla, è il livello di impacchettamento massimo, ma si raggiunge solo in momenti molto particolari, perché i cromosomi, così come siamo abituati a raffigurarli, come dei bastoncini con una strozzatura in mezzo, in realtà non sono presenti durante tutta la vita della cellula, anzi, per la maggior parte della vita della cellula, il DNA è molto decondensato, nel nucleo occupa tutto il volume del nucleo, e si condensa a formare i cromosomi solo nel momento in cui la cellula si deve dividere. Quindi quella raffigurazione, che è quella per noi più comune, in realtà rappresenta il DNA in un momento molto particolare della vita cellulare. Quindi, per riassumere quello che abbiamo detto finora, il genoma contiene informazione, l'informazione sta scritta nella sequenza delle basi, perché è quella sequenza che rende noi umani, che rende i topi topi, che rende i scimpanzei scimpanzee, e lì dentro c'è tutto quello che serve a rendere noi umani, o a rendere scimpanzei scimpanzee. E poi, questo grande volume di DNA viene impacchettato attraverso l'interazione con le proteine dentro il nucleo. Dove sta il problema dell'impacchettamento? Sta che questo impacchettamento non può essere un fenomeno statico. Non è che posso dire, ok, ho i due metri, li ragomitolo, li metto lì, e stanno sempre fermi. Perché? Perché il DNA contiene informazione, e questa informazione deve essere di volta in volta letta. E quindi, per poter essere letta, dopo che è stata impacchettata localmente, deve essere anche aperta. Potete immaginare al fenomeno come un grande libro, che ha tante pagine, e io di volta in volta devo andare a leggere alcune pagine, oppure altre. E in alcuni momenti, voglio anche fare sì che certe pagine restino chiuso, cioè non si aprano mai. questo è il ruolo dell'epigenetica, cioè l'epigenetica ci spiega come la struttura tridimensionale che il DNA assume dentro il nucleo viene utilizzata per poter leggere alcune parti e non leggerne altre. Proviamo a riassumere quello che abbiamo detto finora riguardante il genoma. Il genoma contiene tutte quelle informazioni che sono necessarie a far funzionare gli organismi che vediamo, di cui uno è l'organismo umano, è contenuto all'interno del nucleo che è presente delle cellule, si organizza in una struttura che può essere più o meno compatta e in cui i fondamenti primari sono delle strutture in cui il DNA si avvolge attorno a delle proteine. Allora, in cosa consistono le modificazioni epigenetiche? Cioè queste informazioni che posso sovrascrivere alla sequenza del DNA consistono in modificazioni chimiche. Qui ne vedete simbolizzate alcune. Quelle sigle rappresentano tutta una diversa modificazione chimica. La più semplice è quella che vedete in azzurro dove c'è scritto ME. ME sta per metilazione. Vuol dire che viene aggiunto un gruppo CH3, che è un gruppo metile. Le modificazioni chimiche possono riguardare o direttamente il DNA e quando riguardano il DNA fondamentalmente viene modificata una sola delle quattro basi, solo la C. Non vengono modificate l'A, non vengono modificate la G, non vengono modificate la T e la modificazione che viene apportata è sempre la metilazione. Quindi in realtà noi parliamo di quattro basi ma da un punto di vista funzionale ci sono cinque basi, cioè A, G, T, C e C metilata. E C e C metilata ha un significato funzionale decisamente diverso. Tutte quelle altre modificazioni chimiche di cui adesso non sto a descrivere esattamente cosa sono una per una riguardano invece le proteine con cui il DNA interagisce, cioè gli stoni, che possono essere modificati in realtà in molte più maniere diverse di quanto non possa essere modificato il DNA. E queste modificazioni chimiche che vengono scritte sugli stoni hanno un ruolo fondamentale nel permettere a questa struttura che è stata compattata di poter essere aperta oppure di restare compatta. E quindi quello che vedete qua è una rappresentazione di come diverse degli stoni che sono presenti dentro questa struttura che abbiamo chiamato nucleosoma possono essere modificati chimicamente con l'aggiunta di una serie di modificazioni chimiche di tipo via via diverso. E come avevo detto l'altra modificazione importante è quella che riguarda direttamente il DNA dove come abbiamo detto l'unica modificazione che avviene è a carico della citosina. In realtà questa è quella che oggi conosciamo. C'è chi dice che forse ce ne possono essere anche altre solo che non abbiamo ancora avuto la capacità di riconoscerle. Però al momento questa è l'unica che siamo stati in grado di identificare. E l'insieme di tutte queste modificazioni chimiche che siano a carico del DNA o che siano a carico delle proteine che interagiscono col DNA stesso sono quelle che determinano il nostro assetto epigenetico. La cosa importante è che mentre la sequenza delle quattro basi ACGT non è modificabile a meno di eventi molto rari quali sono questi eventi molto rari sono chiamati mutazioni che il più delle volte o non hanno effetti o hanno effetti negativi. È rarissimo che abbiano effetti positivi per cui in generale è meglio non subire mutazioni anche perché nel nostro corpo ogni tanto queste mutazioni che riguardano alcune cellule del nostro corpo sono quelle che poi portano alla genesi ad esempio del tumore. Però quindi mentre la sequenza possiamo considerarla immutabile a meno di eventi estremamente rari le modificazioni epigenetiche sono sostanzialmente diverse perché sono reversibili. Così come si può aggiungere un gruppo metile quello stesso gruppo metile può essere rimosso così come si possono aggiungere tutte quelle altre cose sugli stoni questi possono essere aggiunti e poco dopo possono anche essere rimossi. E l'alfabeto epigenetico è decisamente più complesso dell'alfabeto genetico perché le modificazioni sono di tanti tipi e combinare diverse di queste modificazioni dà un significato funzionale di volta in volta differente. E mentre l'alfabeto genetico noi lo conosciamo bene oggi cioè quello che vuol dire avere una certa sequenza lo sappiamo predire molto spesso non abbiamo ancora compreso a pieno tutto l'alfabeto epigenetico per cui vediamo uno stato epigenetico in una certa regione ma non siamo sempre in grado di dire se questo sarà uno stato che porterà verso un'attivazione di quella regione o una disattivazione. Proviamo a riassumere quindi quello che abbiamo detto sull'epigenoma l'epigenoma possiamo pensarlo a una serie di modificazioni che vengono aggiunte al DNA che è complessato con le proteine che possono riguardare sia modificazioni sulle proteine come quella che vedete a sinistra sia modificazioni sul DNA come quella che adesso è appena stata apportata. come abbiamo appena ricordato la cosa importante è che queste modificazioni sono reversibili ma soprattutto queste modificazioni ci spiegano quello che vedete qui cosa cercava di rappresentare quel cartone animato cercava di rappresentare due diversi tipi cellulari perché dove è il ruolo fondamentale dell'epigenetica? L'epigenetica riesce a spiegarci perché a fronte di un'informazione che è sempre la stessa perché a partire dall'evento che fonde uno spermatozoo con una cellula uovo si forma la prima cellula diploide che è chiamata zigotte e poi questa si divide e da lì in poi tutte le cellule che risultano per divisione sono tutte identiche geneticamente portano tutte esattamente la stessa informazione quindi in ognuno di noi questa informazione è arrivata per metà dalla madre la cellula uovo per metà dal padre lo spermatozoo si sono fuse queste due cellule all'inizio c'era una sola cellula questa si è divisa oggi sono centinaia di milioni di cellule tutte geneticamente perfettamente identiche però le nostre cellule sono tutto meno che identiche da un punto di vista funzionale perché noi siamo fatti di tanti tipi cellulari diversi allora come si fa a partire da un'informazione che è sempre la stessa costante questo libro con tante pagine a fare sì che questo dia un risultato che è di volta in volta diverso una cellula dell'epidermi una cellula nervosa una cellula del muscolo il segreto è nell'epigenetica perché i diversi tipi cellulari sono tutti geneticamente identici ma sono epigeneticamente diversi e l'insieme delle modificazioni epigenetiche che vengono apportate durante lo sviluppo in ciascun tipo cellulare sono quelle che spiegano poi perché una cellula fa una cosa e una cellula ne fa invece un'altra e spiegano anche un altro problema oggi vanno tanto di moda le cellule staminali qual è la caratteristica delle cellule staminali soprattutto anzi le uniche cellule staminali vere sono le cellule staminali embrionali le cellule staminali embrionali sono cellule totipotenti da una cellula staminali embrionale posso ottenere tutti i diversi tipi cellulari ma se prendo una cellula dell'epidermine da quella cellula dell'epidermide epidermide è epidermine resta dove sta la differenza la differenza sta che la cellula staminale non ha ancora ricevuto tutte queste modificazioni epigenetiche che determinano quale sarà il suo tipo cellulare la cellula dell'epidermide le ha ricevute e una volta che ha ricevuto quelle modificazioni epigenetiche quelle gli restano e lei resta cellula dell'epidermide poi in realtà abbiamo imparato a cambiare un po' queste cose del lavoro di un ortopedico giapponese che ha ricevuto il premio Nobel qualche anno fa che prova e riprova in realtà è riuscito a prendere una cellula adulta e a dedifferenziarle a produrre una cellula quasi embrionale sono cellule che vengono chiamate IPS induced pluripotent stem cells quindi in realtà questo programma epigenetico che si è definito per dare un certo tipo cellulare in certe condizioni quelle che ha messo a punto questo signore si chiama Yamanaka siamo in grado con un intervento piuttosto estremo di farle retrocedere non riusciamo a farle arrivare esattamente allo stato delle cellule embrionali perché non sono totipotenti come le cellule embrionali ma riusciamo comunque a ottenere una cellula quasi embrionale e questo perché le riprogrammiamo epigeneticamente tornando al nostro paragone con il libro quindi abbiamo questa enorme enciclopedia che è il nostro genoma l'epigenetica non fa altro che chiudere alcune pagine del libro ed evitare che queste vengano lette e quindi inattivare alcune porzioni del genoma inattivare alcuni geni ed evitare che questi geni esprimano la loro funzione e invece aprirne altre e quindi potete immaginare che i diversi tipi cellulari si distinguono perché ci saranno alcune pagine che sono aperte in tutti ed altre che sono chiuse in tutti e poi ci saranno delle altre pagine che in alcuni si aprono in altri si chiudono e via dicendo e questo è quindi il meccanismo che porta grazie alle modificazioni epigenetiche a partire da un'unica informazione genetica a poter avere risultati funzionali che sono profondamente diversi ed è vero sia per noi organismi umani ma è vero anche per le piante quindi esattamente gli stessi meccanismi epigenetici sono alla base del differenziamento cellulare nell'uomo in tutti gli altri animali e nelle piante come funzionano quindi le nostre cellule abbiamo tanti diversi tipi cellulari questi portano tutti la stessa informazione genetica questo deve essere chiaro ma i diversi tipi cellulari portano delle informazioni epigenetiche che sono in alcune parti identiche ma in altre parti diverse e sono le differenze nell'informazione epigenetica che viene sovrascritta alla sequenza del DNA quelle che poi portano ad ottenere quindi questo risultato di nel nostro corpo una miriade di tipi cellulari diversi così come anche in organismi più semplici come le piante quindi giusto perché sia chiaro tutti i tipi cellulari hanno esattamente la stessa informazione di base ma di volta in volta leggono parti diverse di quell'informazione e il segreto per definire cosa deve essere letto e cosa non deve essere letto sta in quelle modificazioni chimiche che abbiamo visto possono avvenire o a carico del DNA sulla sola base C citosina oppure a carico delle proteine che si complessano con il DNA che sono gli stoni come si è arrivati a comprendere che esisteva qualcosa che poi abbiamo chiamato epigenetica e che questa informazione epigenetica è inducibile dall'ambiente ma può anche essere ereditata sia ovviamente fra cellule di uno stesso organismo perché prova nel fatto che una volta che viene definito l'identità epigenetica di una cellula dell'epidermide quella resta cellula dell'epidermide ma in parte possono essere anche ereditate da una generazione all'altra il primo fenomeno epigenetico che è stato studiato senza sapere che fosse epigenetico risale a oltre 300 anni fa ed è un fenomeno che è stato osservato in una pianta questa pianta si chiama linaria vulgaris chiamata anche erba strega che vedete raffigurata qui questa pianta come vedete ha tipicamente un fiore tipico delle labiate che è un fiore asimmetrico sicuramente l'avete visto perché è molto comune ma era stato osservato che con una frequenza per quanto bassa ma non trascurabile potevano comparire forme di quella pianta che invece di avere la corolla asimmetrica come quella tipica che vedete a sinistra avevano un fiore simmetrico e questo fiore era stato chiamato fiore pelorico la parola pelorico deriva dal greco e vuol dire mostruoso perché veniva considerata una vera anomalia che queste piante avessero il fiore di questo tipo uso un filmato per raccontarvi la storia che parte dalla Svezia e parte dal 1742 quando un giovane che si dedicava alla botanica si imbatte in un campo dove vede che oltre alle piante con il fiore tradizionale ci sono anche piante con un fiore a simmetria radiale sottopone questo problema all'inneo che era un suo connazionale sapete che l'inneo aveva questa idea dell'efficità della specie per cui un fenomeno del genere aveva veramente mandato in tilt l'inneo che non sapeva più come spiegarlo poi questo fiore in realtà ha interessato anche altri personaggi famosi perché in questo fenomeno si è imbattuto prima Darwin poi Mendel Darwin si è interessato Mendel lo ha trascurato per fortuna perché se no non avrebbe capito bene i meccanismi che invece ha contribuito a comprendere poi la genetica è andata avanti nel 1910 abbiamo scoperto che l'informazione stava sui cromosomi nel 1953 i famosi Watson e Crick hanno identificato la struttura del DNA nel 1985 circa abbiamo imparato che il DNA si complessava con delle proteine che si chiamano istoni attorno all'anno 2000 si è finalmente svelato il mistero della mutazione pelorica la domanda era è una mutazione genetica o è dovuta a un processo epigenetico grazie alle moderne tecnologie che ci consentono di andare a sequenziare il DNA ma anche di identificare se la citosina è solo citosina e citosina metilata quello che un collega di origine italiana ma che lavora da tanti anni in Inghilterra è riuscito a dimostrare è che la mutazione pelorica è una vera mutazione epigenetica cioè il fiore tradizionale rispetto al fiore pelorico hanno esattamente la stessa sequenza di DNA quello che cambia è lo stato di metilazione di quella sequenza è quello che si chiama un fenomeno epigenetico puro molto raro ma che è risultato in questo fiore anomalo che ha poi ovviamente interessato i genetisti una delle cose che si sono potute fare è stato anche dimostrare che pur essendo una modificazione che viene sovrascritta al DNA cioè i due fiori hanno esattamente la stessa sequenza di DNA hanno solo un diverso stato epigenetico di un certo gene che è quello che controlla la simmetria del fiore dicevo si è potuto anche usare questo fiore per dimostrare che quella modificazione epigenetica per quanto non sia scritta nella sequenza viene però ereditata cioè se io faccio un incrocio da una pianta con fiore pelorico riottengo piante con fiore pelorico dov'è la differenza e questo avrebbe potuto mandare in tilt Mendel mentre in queste piante che derivano dal fiore normale tutte le piante saranno normali se io faccio l'incrocio delle piante con fiore pelorico con una frequenza bassa ma non trascurabile potrei anche osservare piante con fiore normale questo perché è più facile revertire la modificazione epigenetica mentre questa non può essere revertita a meno di una mutazione e quindi quello che il collega è riuscito a dimostrare è che tutto è definito cioè se il fiore debba essere normale o pelorico da un diverso stato di metilazione della regione che contiene il gene che controlla la simmetria fiorale e quindi è anche riuscito a dimostrare che quando da una pianta con fiore pelorico ottengo con frequenza bassa ma non trascurabile una pianta con fiore normale questo è il risultato del fatto che quelle modificazioni che erano state impartite per dare il fiore pelorico non ci sono più questo è un aspetto fondamentale questo dell'ereditarietà che noi chiamiamo transgenerazionale cioè del fatto che la modificazione epigenetica possa passare da una generazione all'altra perché questo vuol dire che ci possono essere modificazioni influenzate dall'ambiente che non durano il tempo di una sola generazione cioè non sono valide solo per l'individuo che le riceve ma sono valide anche per le generazioni successive c'è un grande interesse adesso in campo umano e soprattutto medico per questi aspetti perché ad esempio si è visto che la dieta può influenzare il nostro stato epigenetico in maniera anche drammatica e secondo alcuni queste modificazioni epigenetiche possono essere trasmesse alle generazioni successive questo cambia di molto la prospettiva di noi uomini perché noi tendiamo a pensare che quello che noi siamo è il risultato di cosa? del nostro assetto genetico che abbiamo ricevuto da papà e mamma e del nostro ambiente cioè delle esperienze di ambiente che abbiamo subito noi la classica equazione della genetica è fenotipo cioè aspetto visibile uguale genotipo cioè assetto genetico più ambiente ma l'ambiente a cui ci riferiamo è l'ambiente di cui abbiamo esperienza noi cioè se io fumo e questo è il fumo può avere un influsso sul mio assetto epigenetico ce l'ha per me la prospettiva cambia radicalmente se queste modificazioni epigenetiche possano essere trasmesse alle generazioni successive perché vuol dire che io stesso sono il mio assetto genetico più il mio ambiente più sono l'integrale di tutti gli ambienti che hanno esperito i miei genitori i miei nonni e chi è venuto prima di loro in funzione di quanto a lungo queste modificazioni possono durare nel tempo passando una generazione all'altra non è ancora chiaro esattamente quante e quali delle modificazioni epigenetiche abbiano la capacità di passare da una generazione all'altra quello che si sa però è che questa trasmissione intergenerazionale è molto più frequente nelle piante che non negli animali negli animali nel momento in cui si formano i gameti c'è un reset quasi completo dell'informazione epigenetica nelle piante questo reset è molto meno completo per cui resta molta più memoria tornando al nostro fiore pelorico questo fenomeno ha avuto effetti profondi su vite e pensiero di tante generazioni di scienziati che si sono arrovellati attorno a questo fenomeno per cercare di darne una spiegazione il giovane botanico non è stato botanico molto a lungo perché poi è diventato un famoso avvocato però il suo lavoro è stato fondamentale perché di quel fiore poi è rimasta a memoria a lungo perché è stato raccolto nell'orto botanico di Linneo e come vedete scritto oltre 200 anni dopo la sua osservazione originaria uno studioso è riuscito a ritrovare il sito dove lui era andato a raccogliere questi fiori pelorici e era ancora pieno di fiori pelorici a dimostrazione del fatto che il fenomeno epigenetico è stabile cioè viene trasmesso in maniera abbastanza fedele nel tempo Linneo invece come abbiamo detto si è trovato in difficoltà a fronte di questa osservazione perché lui aveva questo concetto dell'immuntabilità delle specie e vedere che c'erano due piante che per tutto erano così simili ma differivano solo nella morfologia del fiore l'ha messo un po' in difficoltà e alla fine della carriera in realtà aveva dovuto ammettere che questa immutabilità del creato che poi dovete pensare che il poverino era frutto del suo tempo cioè lui viveva in un certo contesto culturale come succede a tutti noi e obiettivamente questo della natura immutabile era molto più conciliabile con un concetto creazionista dell'universo rispetto invece a a un concetto di evoluzione continua che mal si accorda con una visione creazionistica che poi è il concetto che ha portato avanti invece Darwin ecco se voi doveste chiedere a me come anche a tutti i miei colleghi nel caso specifico del fiore pelorico perché alcune piante hanno subito questa modificazione ed altre no e quindi perché solo alcune piante hanno il fiore pelorico ed altre non ce l'hanno la risposta è che in questo caso non sappiamo quale sia il motivo cioè non sappiamo dire esattamente cos'è che porta in alcuni casi ad avere quella versione della sequenza con le citosine metilate e in altri casi la stessa versione senza le citosine metilate la cosa poi fondamentale di cui parleremo nell'ultima parte della presentazione è il fatto che non solo le modificazioni epigenetiche sono in un certo senso scritte nel programma di sviluppo di un organismo ma le modificazioni epigenetiche possono anche essere fortemente influenzate dall'ambiente ci sono famosi esperimenti dove ad esempio attraverso la dieta si può mutare profondamente lo stato di metilazione di topi addizionando la loro dieta con particolari composti che sono composti che hanno un effetto metilante sul DNA questo è un esempio molto chiaro di come l'ambiente in questo caso la dieta può indurre modificazioni epigenetiche perché il ruolo dell'ambiente può essere importante perché ovviamente nella visione della genetica classica detta anche visione neodarwiniana che deriva dalla sintesi del pensiero di Darwin e di ciò che aveva scoperto Mendel l'ambiente ha solo un ruolo di scegliere nel senso che le mutazioni sono casuali ogni tanto avvengono queste mutazioni ma avvengono in maniera puramente casuale non c'è capacità dell'ambiente di indirizzare le mutazioni questo è un concetto che nella genetica non trova casa e non ha ragione di esserci quindi c'è un fenomeno casuale che genera continuamente mutazioni l'ambiente fa da filtro perché le mutazioni che peggiorano l'individuo vengono eliminate quelle che non hanno effetto stanno lì possono aumentare diminuire sono diciamo governate dal caso quelle che invece l'individuo lo migliorano perché lo rendono più forte gli fanno produrre più figli e via dicendo aumentano in frequenza e si affermano man mano nella popolazione ma l'ambiente ha solo questa funzione di filtro nel caso dell'epigenetica invece l'ambiente può indurre la presenza di nuove modificazioni epigenetiche e questo è un concetto che per noi genetisti è rivoluzionario questi stimoli ovviamente devono essere percepiti lo stimolo può essere calore lo stimolo può essere freddo lo stimolo può essere alta concentrazione salina adesso sto parlando di piante ad esempio e ovviamente devono essere percepiti attraverso un sistema di percezione che è dato da una proteina che si chiama recettore che più delle volte sta fuori dalla cellula questo recettore percepisce il segnale ambientale c'è tutto un sistema che trasmette questo segnale all'interno della cellula fino a farlo arrivare al nucleo dentro il nucleo questo segnale in alcuni casi può risultare in modificazioni epigenetiche quindi mentre la sequenza non è influenzabile dall'ambiente l'informazione epigenetica può essere influenzata dall'ambiente che l'ambiente possa cambiare le caratteristiche degli individui lo sappiamo perché l'abbiamo detto prima noi siamo il risultato di un'interazione fra ciò che è il nostro assetto genetico e ciò che è l'ambiente in cui abbiamo esperienza dove sta la differenza nel fatto che l'ambiente induca modificazioni epigenetiche è che di queste modificazioni resta una traccia duratura a livello del DNA perché si traducono in modificazioni chimiche che possono essere direttamente a carico del DNA oppure a carico delle proteine con cui il DNA interagisce e questa informazione può essere trasmessa da una cellula all'altra e in alcuni casi può anche essere trasmessa da una generazione all'altra uno dei fenomeni su cui si sta puntando è la risposta allo stress in particolare nelle piante c'è una grossa differenza fra come piante ed animali rispondono allo stress e a cosa è dovuta questa differenza è dovuta fondamentalmente a due fenomeni uno che gli animali hanno un sistema che gli consente di avere una memoria grazie a un sistema nervoso più o meno evoluto due gli animali si possono muovere quindi quando arriva il problema possono scappare le piante non hanno né un sistema nervoso c'è un mio collega a Firenze che cerca di raccontarvelo non è vero anche se fa tanti soldi con questa idea e c'era anche non so se avete visto un filmato dell'IKEA l'avete visto? non faccio nomi ma c'è stato anche un filmato che ha fatto l'IKEA di recente orribile vera spazzatura che sembrava dimostrare il filmato era consisteva in dei bambini di una scuola che avevano due piante una pianta la insultavano urlavano e dicevano cattive cose l'altra la trattavano bene venivano nutrite alla stessa maniera con cimi acqua e poi ti facevano vedere che dopo due mesi quella insultata stava male e l'altra stava bene questa è IKEA è sempre svedese esatto quindi un animale vede un pericolo percepisce il pericolo scappa per evitare il pericolo e poi di questa cosa gli resta memoria perché ha un sistema nervoso che la seconda volta in cui si ritrova di fronte allo stesso pericolo gli permette di rispondere più velocemente ed evitare il problema ovviamente se la prima volta è stata abbastanza veloce perché se la prima volta non ce l'ha fatta scappare la memoria non gli serve più nelle piante la cosa è diversa perché come ho detto la pianta non ha memoria e e la pianta non può muoversi quindi immaginiamo un fenomeno come lo stress da caldo avete idea del perché il caldo fa tanto male alla pianta il caldo fa male alla pianta perché la pianta ha un problema che deve continuare a far entrare anidride carbonica nel momento in cui fa entrare l'anidride carbonica la fa entrare attraverso la superficie della cellula attraverso dei buchi che sono formati da cellule apposite e questi buchi si chiamano stomi allora per far entrare l'anidride carbonica deve aprire questi buchi ma nel momento in cui apre questi buchi cosa fa immagazzina l'anidride carbonica ma perde acqua per evapotraspirazione allora il dilemma in cui si trova quando fa caldo è che non vuole perdere acqua e quindi vorrebbe chiudere gli stomi ma se chiude gli stomi a quel punto non può più immagazzinare CO2 e da lì nascono buona parte dei problemi quindi la pianta percepisce il calore ci mette un tot di tempo a capire che è arrivato il caldo quando lo capisce temporaneamente chiude gli stomi e cerca di porre rimedio a questo quello che stiamo cercando di capire è se le piante a fronte di uno stress di questo tipo hanno una memoria che ovviamente non può che essere una memoria epigenetica che fa sì che la seconda volta in cui si ritrovano a far fronte allo stesso tipo di stress sono questa volta più pronti a rispondere e quindi ad esempio chiudono gli stomi prima e la risposta è che questi fenomeni che sono chiamati in inglese fenomeni di priming in cui lo stimolo fa da priming per poi consentire alla pianta di rispondere più velocemente la seconda volta in cui si trova a affrontare lo stesso stimolo sembrano esistere e i meccanismi che stanno dietro questa memoria sono meccanismi epigenetici che oggi sono in corso di elucidazione perché c'è interesse in questo tipo di fenomeni perché capire che fenomeni di questo tipo esistono ci può consentire di preparare delle varietà di piante che siano più pronte a far fronte agli stress e può anche cambiare radicalmente il modo di fare le cose lo stress su cui si sono fatti più studi è lo stress da infezione da patogeni funghi batteri in questo caso è ormai sicuro che c'è questo fenomeno di priming cioè c'è una memoria epigenetica nel momento in cui la pianta subisce la prima volta l'infezione questa infezione una volta sparita lascia un segno e questo segno è un segno che viene lasciato a livello epigenetico la seconda volta in cui la pianta viene infettata dallo stesso patogeno è più pronta a rispondere a quel patogeno allora com'è che questo può far cambiare le cose fino adesso le ditte sementiere quando dovevano produrre le sementi cosa facevano avevano delle piante madri da cui si producono le sementi e le tenevano in condizione di assoluta sterilità cioè evitavano in tutti i modi che venissero esposti a patogeni oggi questa cosa per alcune ditte sementiere sta cambiando questo fenomeno la prospettiva perché forse la strategia migliore non è quella di produrre il seme da piante madri tenute in condizione di assoluta sterilità ma forse è meglio che le piante madri vengano infettate dal patogeno che nel DNA di quelle piante madri vengano impartite delle modificazioni epigenetiche che la rendono più pronta a rispondere se queste modificazioni epigenetiche vengono trasmesse alla generazione successiva il seme che andrò a vendere sarà un seme che renderà la pianta più pronta a rispondere all'infezione da patogeno e ci sono tante strategie diverse che potrei pensare che possono riguardare la produzione di seme per le piante che vengono prodotte attraverso seme e possono anche riguardare ad esempio per le piante da frutto che vengono riprodotte clonalmente un cambio di prospettiva su come devo produrre il materiale riproduttivo in quali condizioni ambientali per fare sì che nelle piante che poi vado a mettere nel fruttetto ci sia una memoria epigenetica che gli consente in senso lato di essere meglio adattate all'ambiente in cui si trovano a vivere l'altra frontiera che si apre è che se l'epigenetica ha un ruolo così importante nel determinare la risposta della pianta allo stress il futuro del miglioramento genetico delle piante potrebbe non consistere solo di modificazioni genetiche come si è fatto fino ad adesso che possono essere generate con tante metodiche diverse ma potrebbe consistere di modificazioni epigenetiche le modificazioni epigenetiche potrebbero essere in un certo senso più facili da generare hanno il problema che sono meno stabili per cui potrebbero non durare tanto a lungo perché nel corso delle generazioni questo effetto si potrebbe diluire ma ad esempio la tecnica di cui oggi tanto si parla che viene chiamata genomediting che consente in maniera molto precisa di andare a modificare singole basi del DNA può anche essere adattata ed è già stato fatto non per indurre modificazioni genetiche quindi andando a cambiare le basi del DNA ma per indurre modificazioni epigenetiche in un punto preciso andando quindi ad aggiungere a rimuovere gruppi metili sul DNA o andando ad aggiungere a rimuovere tutti quegli altri gruppi chimici sugli istoni e questo potrebbe essere una grande frontiera del miglioramento genetico quindi l'aspetto importante è che l'epigenetica ci consente di pensare che anche in organismi come le piante che non hanno un sistema nervoso che gli consente di avere memoria degli stress può esserci un meccanismo che mantiene memoria delle esperienze ambientali passate attraverso meccanismi epigenetici una cosa interessante che è venuta fuori in questi ultimi giorni non so se avete sentito sui giornali ne hanno parlato parecchio c'era un lungo articolo sul Corriere della Sera è che alla fine la base molecolare dell'epigenetica e della memoria che abbiamo noi forse è la stessa base da un punto di vista biochimico le modificazioni epigenetiche sono tutte mediate da piccole molecole di RNA l'RNA è il secondo tipo di acidi nucleici il DNA è quello che tiene l'informazione immagazzinata l'RNA è quello che serve a tradurre queste informazioni in funzione che dicevo le modificazioni epigenetiche sono tutte intermediate da molecole di RNA e questa è una cosa che sappiamo ormai da un 15 anni quella novità degli ultimi due settimane su cui i giornali si sono sbizzarriti è che da esperimenti fatti sull'umacone che viene usato come organismo sperimentale per studiare la memoria sembra che la memoria quella del sistema nervoso ma quella che consente a noi di ricordare sia dovuta molecola di RNA prendendo RNA dal sistema nervoso delle lumache che avevano memoria di una certa cosa e trasferendo quell'RNA sulle lumache che non avevano mai avuto memoria di quella cosa le lumache che non avevano avuto memoria di quella cosa si sono ritrovate a ricordarsi quella stessa cosa semplicemente trasferendo RNA che è un concetto totalmente nuovo non tutti adesso bisognerà vedere se reggerà la prova del tempo anche per noi cambierebbe drasticamente la cosa pensate che vediamo tanti film di fantascienza giusto cose anche strane e ci sembrano bizzarre però se così fosse e trovassimo la chiave giusta cioè riuscissimo a capire quale molecola di RNA ci vuole per suscitare quale ricordo sintetizzare l'RNA è la cosa più banale di questo mondo noi potremmo fare un cocktail somministrarlo a ciascuno di noi e impiantarci tutta una serie di ricordi ci sono tutta una serie di film di fantascienza su questo tema di impiantare ricordi nelle persone magari se questi esperimenti si riveleranno corretti potremmo non essere così lontani da un futuro di questo tipo chiudo qua poi se volete possiamo dedicarci alle domande quindi la sintesi di quello che vi ho raccontato è che l'ambiente sicuramente ha un effetto nell'influenzare le caratteristiche visibili degli organismi parte di questi effetti sono effetti dovuti a modificazioni epigenetiche queste modificazioni epigenetiche possono essere durevoli sono sicuramente durevoli all'interno di un organismo entro una generazione in parte possono anche essere trasmesse da una generazione all'altra e quello che dovremmo cercare di capire da qui in avanti sarà quanta parte e quale dell'informazione epigenetica hanno il potenziale di essere trasmesse da una generazione all'altra nel caso delle piante studiare la memoria epigenetica potrebbe aiutarci a migliorare le performance delle nostre varietà ma in generale visto che siamo in un festival che si occupa di alimentazione e scienza un altro aspetto molto interessante su cui alcuni si stanno già esercitando è capire quanto la dieta cioè ciò che assumiamo attraverso la dieta può influenzare il nostro asset epigenetico ad esempio una delle cose su cui si sta lavorando di più è la questione dell'obesità l'obesità uguale stato infiammatorio e da lì derivano buona parte dei problemi legati all'obesità stato infiammatorio costante porta a diabete malattie cardiache tutto quello che di male potete pensare quello che si sa è che anche una volta che si smette di assumere troppe calorie questo stato infiammatorio persiste e sembra che questo sia dovuto al fatto che l'obesità induce modificazioni epigenetiche durevoli che quindi persistono nell'organismo più a lungo di quello che si vorrebbe il che non deve dire allora non ha senso fare la dieta comunque è meglio smettere la dieta ipercalorica piuttosto che continuare però resta questa memoria adesso chi si occupa di queste cose sta cercando di capire quali sono i geni che fanno sì che la memoria persista perché poi una strategia terapeutica potrebbe essere quella di andare temporaneamente a inattivare quei geni per fare in modo che la memoria si cancelli e quindi ritorniamo a uno stato che sarebbe quello prima di diventare obesi evitando quindi i problemi che ne possono conseguire voglio chiudere con un'ultima riflessione perché adesso io non so quanti di voi si interessino all'evoluzione ma tutto quello che oggi noi diciamo di evoluzione genetica è principalmente dovuto a questi due signori Charles Darwin che vedete a sinistra il monaco Gregor Mendel che vedete a destra ma nella storia della scienza c'era stato un altro signore un signore francese che nel 1802 aveva esposto una sua teoria che era quella dell'ereditarietà dei caratteri acquisiti questo signore si chiamava Henry Baptiste Lamarck Lamarck poi è stato sbugiardato nel senso aveva questa teoria del collo della giraffa che si allungava per riuscire ad andare a prendere le cose sugli alberi e poi quindi l'ambiente induceva l'allungamento e poi questa caratteristica poteva essere trasmessa alle generazioni successive i due signori gli hanno detto no hai sbagliato però teniamo presente che i meccanismi di cui abbiamo parlato cioè i meccanismi epigenetici indotti dall'ambiente potrebbero ridare ragione al signor Lamarck il che non vuole dire che loro abbiano torto perché gran parte dell'evoluzione è guidata dalle regole che questi due signori ci hanno insegnato ma in realtà i meccanismi epigenetici indotti dall'ambiente rispondono molto più a ciò che diceva Henry Baptiste Lamarck rispetto a quello che dicevano i due signori quello che dobbiamo definire è quanta parte dell'evoluzione guidata da un modello di quel tipo e quanta parte da questo sicuramente quello che è vero è che gran parte dell'evoluzione è guidata da questo però c'è una parte che potrebbe non essere trascurabile che in realtà risponde a un modello di tipo Lamarckiano tenete conto che fino a non tanto tempo fa parlare di modello Lamarckiano di evoluzione voleva dire essere espulsi dalle società scientifiche però ovviamente la scienza va avanti per scoperte successive vi ringrazio e sono pronto a rispondere a domande grazie Michele Morgante per la chiarezza con cui ha raccontato questa disciplina molto affascinante sono sicuro che avrà stimolato tutta una serie di domande siamo però un po' al limite quindi cercherei di catturare almeno una veloce se qualcuno ecco ce n'è una lì in fondo io avevo due curiosità una sul fiore pelorico se non ha modificato in qualche modo il sistema di riproduzione ad esempio se o la fertilità se si riproduce per impollinazione ad esempio se ha influito su questa cosa la seconda invece sulle modificazioni epigenetiche cioè com'è possibile farle se inserendo una base direttamente modificata o modificando ad esempio il sistema di maturazione di una proteina e quindi far sì che la cellula inserisca da sé una modificazione non so a livello di un determinato aminoacido allora la prima domanda si ha cambiato il sistema riproduttivo perché l'altro è un fiore praticamente in termini botanici si chiama claystoga ma è un fiore chiuso quello normale mentre il fiore radiale è aperto e quindi consente la libera impollinazione cosa che quell'altro non consentiva quindi si ha cambiato e quindi la specie era una specie autogama che si autofecondava quando c'è il fiore pelorico anche la possibilità di incrocio con altre piante la seconda parte è quella delle modificazioni epigenetiche come si possono fare allora ci possono essere strategie non mirate agenti metilanti del DNA sono molto comuni però ho un effetto generico cioè posso metilare o demetilare in massa tutto il DNA così come ci sono molecole chimiche che possono servire a modificare in maniera globale gli istoni chimicamente fra l'altro alcune di queste quelle che modificano l'assetto degli istoni sono oggi molto usate in oncologia sono dei nuovi tipi di chemioterapici sono inibitori delle istone dei acetilasi hanno effetti secondari gravi come la chemioterapia tradizionale però in alcuni casi sembrano essere molto efficaci contro alcuni tipi tumorali ma quello che invece interessa di più oggi è compiere le modificazioni epigenetiche non globalmente senza sapere dove vado a farla ma in maniera mirata cioè poter decidere che questa base che adesso è metilata la posso demetilare o viceversa una base del DNA che non è metilata la posso metilare e questo si fa adesso non so se lei sa come funziona questo sistema CRISPR-Cas è una proteina che viene guidata in un punto preciso del DNA da una corta molecola di RNA che si chiama RNA guida questa proteina ha delle forbici che servono a tagliare questa è la proteina tradizionale queste forbici possono essere rimosse e al posto delle forbici ci possono mettere tante altre funzioni potete pensarlo come un coltellino svizzero dove posso avere la lama posso avere la sega posso avere il cavatappi e in alcuni casi posso inserire una metilasi del DNA in altri posso inserire una demetilasi posso inserire vari enzimi di modificazione degli stoni e così riesco a impartire la modificazione esattamente dove voglio io non so se era questa la domanda com'è modificando la CAS viene chiamata DCAS che vuol dire deactivated CAS perché tolgo le forbici per tagliare e gli aggiungo tante altre cose grazie c'è ancora una domanda sì volevo chiedere in merito alle modificazioni epigenetiche il passaggio da una generazione all'altra se è possibile che ad esempio alcune malattie del nostro tempo riguardo l'uomo ma non solo anche gli animali e le piante magari possono essere causate da non so fattori esterni quindi stimoli ambientali che colpiscono i nostri genitori ma che poi sui nostri genitori non hanno effetti visibili diciamo come sintomi di malattie però poi sui figli possono provocare delle malattie e questo anche negli animali nelle piante allora nell'uomo c'è un famoso studio che è stato fatto in Olanda su una corte di donne che alla fine della seconda guerra mondiale avevano subito una grossa carestia cioè non c'era da mangiare alla fine della guerra queste donne quindi avevano avuto un regime di forte restrizione calorica per dirlo con un eufemismo avevano sofferto la fame e poi si è andati a guardare i figli di questa corte di donne e l'incidenza di tutta una serie di malattie in questi figli e lo si è confrontato con una corte di donne omogenea per tutte le altre caratteristiche tranne che per il fatto che non avevano avuto esperienza di questa carestia quello che si osserva è che nei figli di quelle che hanno subito la carestia l'incidenza di tutta una serie di malattie è notevolmente aumentata e questo studio è lo studio che viene più citato quando si vuole sottolineare esattamente quello che ha detto lei cioè che l'ambiente può apportare delle modificazioni epigenetiche nei genitori queste vengono trasmesse ai figli e poi nei figli si manifestano in questo caso con un'incidenza più elevata di tutta una serie di patologie bene io ringrazio ancora il professor Morgante per la sua disponibilità e la sua chiarezza e tutti voi per la vostra attenzione dobbiamo lasciare lo spazio al prossimo incontro buon pomeriggio sì buon pomeriggio buon pomeriggio